Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale, oggi, intanto spero che stiate bene, in ogni caso oggi sto registrando questo video tardi quindi ho preso due trigger che non ho mai fatto almeno credo, poi altri tre oggetti giusto per fare un po' una sessione che possa rilassare rilassare, rilassarvi, in ogni caso spero vi piaccia questo video, spero che vi piaccia questo video quindi vi faccio un nuovo trigger, questo, e questo, questo fa un sonno di earth beat allora spero ovviamente che questo non produca un suono troppo forte per questo lo allontanerò a Grazie a tutti. Allora, questo era un test perché non vorrei sempre praticamente fare il video per poi doverlo cancellare. Allora, il secondo oggetto è questo. Ah, sì, sto indossando il pijama. Allora, scusate, scusate. Allora, scusate. Allora, il terzo consiste in tapping su una box di un gioco, questo video so che sarà uno dei peggiori perché diciamo che il primo probabilmente vi farà avere un infarto, è collegato a tutto il fatto che quell'ultimo fu, era un, non mi ricordo come si chiama però, ma questo qui crea un rumore forte quindi il terzo dovrebbe essere gradibile, è la custodia unico in un'omart Grazie. 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 Sto facendo tutto questo perché non voglio che si senta mia sorella. Grazie. Allora, l'ultimo e il penultimo è un lead sound che ho fatto già nello scorso video, Nilted Brush, e mi è stato detto che è stato apprezzato, quindi ho deciso di riportarlo. Grazie. La proposta è in questo modo. Prepariamo la proposta di clicci bene, qui. Grazie. 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 Allora ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, non dimentichiamoci della thumbnail ovviamente. Se il video vi è piaciuto leggendo un mi piace, un commento, iscrivetevi per più video. Ciao ragazzi, subscribe and leave a like. Ok andate con guai e dite.